Minasan, konnichiwa! Ciao a tutti! Ogni kanji è in realtà un insieme di tratti segnati secondo un preciso ordine, quindi per una corretta scrittura di ciascun ideogramma è basilare conoscere alcune regole. Si tratta di alcune norme che regolano il giusto ordine in cui i tratti devono essere tracciati e che è bene conoscere, non solo per scrivere correttamente un kanji, ma anche per ricordarlo con facilità e trovarlo senza troppe difficoltà nei dizionari. Vediamo ora le tre regole di base fondamentali e poi in che ordine applicarle quando scriviamo un kanji. Regola numero 1 Il tratto orizzontale si scrive sempre tracciando una linea da sinistra a destra. Regola numero 2 Il tratto verticale o obliquo si scrive dall'alto verso il basso. Regola numero 3 Il tratto curvo è sempre continuo e mai spezzato in due tratti. Vediamo ora con quale ordine dobbiamo applicare queste tre regole basilari. Si segue sempre l'ordine dobbiamo applicare queste tre regole basilari. Se abbiamo un kanji con un carattere verticale ed uno orizzontale, quest'ultimo si scrive prima. Il tratto che taglia o attraversa tutto il kanji, sia in orizzontale che in verticale, si scrive per ultimo. Il tratto diagonale da destra verso sinistra si scrive prima del tratto diagonale che va da sinistra verso destra. Il tratto verticale centrale si scrive prima dei tratti più piccoli laterali. Il tratto verticale viene scritto prima del tratto orizzontale più corto alla sua destra. Il contorno di un kanji si scrive prima del suo interno, tranne il tratto di chiusura del contorno che va tracciato per ultimo. I tratti piccoli e corti simili a virgole o accenti vanno tracciati per ultimi. Per saperne di più sulla lingua giapponese e sul Giappone, visitate il sito www.sakuramagazine.com Alla prossima! Matanè!